Siamo nella fase finale della sistemazione di tutte le scuole in vista dell'apertura del nuovo anno scolastico. La squadra di Attila è in piena attività. Da una settimana abbiamo iniziato a ripulire le scuole con l'aiuto di questi ragazzi dell'azienda della cooperativa Attila, siamo a buon punto. Però chiedo ai bidelli, a tutti coloro che appartengono a queste famose scuole di dare una mano soprattutto per la spazzatura che stiamo trovando sotto l'erba. Io ci metterò l'anima, i ragazzi stanno mettendo l'anima e quindi non ho più che cosa dire. A questo punto dico signori miei vogliamo le scuole belle per i ragazzi, dateci una mano, sono i vostri figli e quindi la cosa bella è avere queste scuole meravigliose che con la pulita diventano favolose, anche perché il verde c'è. Noi ci metteremo l'anima e penso di potercela fare prima dell'apertura avere delle scuole decente e pulite.